Vado subito a vedere per correttezza, perché mi sembra assurdo non farvelo sapere, perché non le trovo mai, stavano provando, stavano provando gli abiti, è il Macbeth, il Macbeth di Verdi, il Macbeth di Verdi, stesso Verdi di Inferno, quindi vedete anche un po' le riprese argentiane. E anche qui diciamo che la trama è giocata su questi colpi di scena, quindi sul ribaltamento della situazione e caratteristica di questo film è il modo in cui l'assassino, tra virgolette, l'assassino fa vedere alla protagonista, che è la donna, che è una donna, fa vedere praticamente gli omicidi che sta compiendo e gli mette praticamente del nastro adesivo con dei chiodi che non permettono alla protagonista di chiudere gli occhi. Quindi si vede questa scena, questa bellissima scena in cui praticamente la protagonista ha gli occhi spalancati, scorganti di sangue, perché ovviamente i chiodi fanno il loro effetto, che è costretta a vedere gli omicidi di questo assassino. E direi che è di una potenza questa scena bellissima. Nota un po' conclusiva di questo periodo argentiano, perché secondo me da qui in poi inizia un nuovo periodo argentiano. Opera conclude il periodo d'oro di Argento, dopo Opera inizia un po', a mio parere ovviamente, la decadenza di Argento, che si concluderà con gli ultimi film. Sul ruolo delle donne, questa sembra che sia diventata più che una monografia, una conferenza politica sui diritti delle donne, e contro le discriminazioni, però sì, i film di Argento parlano di questo, parlano della donna. Tutti i protagonisti di questi film, la maggior parte dei protagonisti di questi film, sono donne. E poi in questi film c'è la splendida figura di Dara Nicolodi, che è sempre attualmente l'ex moglie di Argento, che è una donna con le contro, con le palle, contro palle, contro contro palle. E qui veramente Argento riflette sul ruolo della donna, e la donna all'interno del film horror è sempre stata presente, e questo è un altro pregiudizio, perché la critica che è stata fatta ai film horror è di misoginia. No. Ovviamente, scuse, eccezioni. L'horror non è misoginio, l'horror mette al centro la donna, lo fa in modo del tutto particolare, però non mette al centro, e Argento è il primo regista che mette al centro la donna, i protagonisti sono donne. Poi è vero, l'horror è misoginio perché le vittime sono principalmente donne, ma questo è un pregiudizio, dobbiamo andare oltre. L'horror, soprattutto l'horror argentiano, vuole ridare fiducia al ruolo delle donne, soprattutto in anni come gli anni Ottanta, che sono stati anni in cui la rivendicazione femminile si è fatta avanti, pensate a Girl, Just One, è fan di Cyndi Lauper, vi chiarisce la situazione delle donne, e Argento è avanti, è ancora più avanti di Cyndi Lauper o Madonna del panorama pop, è già avanti perché per lui il ruolo della donna ha un'importanza fondamentale. Ora iniziamo un po' il periodo di decadenza di Argento, con un film del 1900-1990, quindi iniziamo gli anni 90, e Argento fa due occhi diabolici insieme a George Romero. George Romero, credo che i fan dell'horror lo conoscano come praticamente il creatore degli zombie, Romero è il creatore degli zombie, punto, ecco, tutte quelle merdate di Walking Dead, quelle puttanate americane, non c'è tra un cazzo, ecco, George Romero è veramente lo zombie. E Dario Argento decide quindi di fare questo film, decide di fare questo film con George Romero, e si ispirano alle storie di Edgar Allan Poe, il maestro ovviamente della letteratura horror, si ispirano a due storie, io analizzerò solamente quella di Argento, che è il gatto nero, The Black Cat. Rivisitato, rivisitato da Argento perché è un gatto nero, è un gatto nero stregonesco, perdonatemi l'aggettivo, cioè la moglie barra fidanzata, insomma, del protagonista, che è il fotografo, e che è il fotografo del gatto nero di Edgar Allan Poe, ha le movenze di una strega. A un certo punto questo protagonista ha proprio le visioni di questa donna quasi fosse una strega. E questo film ha le movenze proprio stregonesche, ha le movenze stregonesche praticamente rispetto al libro. E in particolarità sono proprio queste ambientazioni, tutte soffuse, con molto fumo, molto onirico. Sembra quasi che questo film sia un sonno di Dario Argento, un incubo di Dario Argento, e probabilmente lo è stato, un incubo di Dario Argento. Quindi anche questa volta non è tanto la trama, anche perché la trama poi è quella del romanzo, ma è come viene rivisitata la trama, che viene rivisitata in maniera onirica. Perché inizia qui il periodo della decadenza? Perché Argento non è più lo stesso, è meno attento alla fotografia, è meno attento ai dialoghi. Già lo era prima, adesso è ancora meno attento ed è meno potente visionariamente parlando. Però questo film ha questa componente onirica che è stregonesca, veramente unica. Secondo me è uno dei film più onirici di Argento, questo gatto nero argentiano. E poi l'efferatezza degli omicidi, perché c'è la scena, questa visione di quest'uomo con la sua moglie barra fidanzata, con queste movenze stregonesche, che praticamente lo impala. Ed è una scena crudelissima. E qui Argento inizia un po' quel periodo che lo porterà allo splatter, ed ecco perché è un altro elemento di decadenza. Nel gatto nero è bello, questa efferatezza dell'omicidio, perché trasportata in una dimensione onirica, ancora una volta quindi visiva, però poi ecco nei film più recenti la potenza visiva si andrà a perdere, quindi rimarrà uno splatterino che insomma, so poter evitare pure. Dopo Il gatto nero, che è un film carino, che vi consiglio di vedere, ma non è come gli altri, è carino. Fa nel 1993 Trauma. Trauma è un film che vede per la prima volta la collaborazione, purtroppo, dell'attuale fidanzata di Morgan. Tatan tatan, Asia Argento. Entra nella filmografia di Argento, Asia Argento, la figlia. Ancora una volta le raccomandazioni che sono sempre valide del nostro paese. Asia Argento che ha rovinato il padre, secondo me ha rovinato il padre. Il padre che era fissato con i nudi della figlia, non so perché si arrapava a vederla nuda, questo è un dato di fatto, non me lo sto inventando, si arrapava a vederla nuda, allora decide di fargli fare dei film. Semplicemente questo, perché la capacità recitativa di Asia Argento, credo che la conosciate tutti, addirittura Morgan l'ha messa a fare una canzone con lui, Carità alle mie orecchie, per fortuna sono mezzo sordo. Però questo film funziona, è l'unico film con Asia Argento, o perlomeno è uno dei due film con Asia Argento che funziona, l'altro è la sindrome di Stendhal che purtroppo non potrò analizzarvi perché non l'ho visto, mi dispiace, ma me lo sono perso perché non riesco a trovarlo, quindi non l'ho visto. Però dicono che sia bello, quindi mi fido del giudizio al tuo per una volta. Quindi per me, per quello che ho visto, questo è il film in cui a Sergento c'è. E' una sergento giovane, non credo neanche fosse maggiorenne o se era maggiorenne, insomma, meno di vent'anni, quindi una sergento giovane che ha voglia di recitare, per quanto non sia eccelsa, per quanto non sia brava, in questo film ha voglia di recitare. Trauma torna al giallo, torna al giallo e torna al tema del ribaltamento. E' un film carino anche questo. Cioè, per questo parlo di decadimento, perché non si parla più di visionarietà, film bellissimi, cult, capolavoro, e qui si parla di film carini. Sono carini, non sono brutti, però non hanno più quella potenza dei film di una volta, anche perché è argento, poi è invecchiato. Questo film si basa sul ribaltamento. Ribaltamento, vi dico solamente, di teste mozzate, perché il film inizia praticamente con la scena in cui ai genitori di la sergento viene mozzata la testa e quindi la sergento si trova orfana e il tizio che l'aiuterà ad affrontare i problemi da orfana inizierà poi insieme a lui un'indagine e lo porterà a ribaltare la situazione che era partita proprio dal decapitamento dei suoi genitori. Non vi posso svelare il finale, perché anche qui credo che sia uno dei finali più belli di Argento. Quello che vi posso dire è che qui Argento torna un po' a fare quelle atmosfere, quelle luci che faceva una volta, però sa di vecchio. Non so spiegarvi bene il perché, però sa di vecchio in questo film. Per quanto abbia un finale geniale, per quanto ci sia una sergento che sappia recitare, per quanto c'è il tema del ribaltamento, le musiche sempre belle, però sa di vecchio, non c'è più quella novità che c'era una volta, perché dopo praticamente l'ho iniziato alla fine degli anni 60, praticamente nel 1970, a fare film, ma prima faceva lo sceneggiatore, e dopo praticamente più di vent'anni se usi la stessa tecnica rischi di essere un po' vecchio. Qui non usa solamente la stessa tecnica, ma si circonda anche di personale meno competente e quindi è ovvio che l'insieme delle due cose porta a fare dei film carini e non belli. Le cose però vanno sempre peggiorando e non si capisce perché. E Argento poi a un certo punto capisce che deve migliorare e toglie e dice basta, va a fa un culo il vecchio, va a basta queste tecniche, visionarità, potenza visiva, luci, musica e basta. Cambiamo completamente, io voglio cambiare e fa la sindrome di Stendhal. Sindrome di Stendhal che nel 1996, dicevo, è il secondo film con Asi Argento, che la critica è reputata ancora un Asi Argento che sapesse recitare, film che purtroppo non ho visto. So solo che ha diviso la critica, da un lato c'è gente che lo apprezza, dall'altro gente che no. Però di questo film vi dico solamente una cosa, che è il primo film in cui Dario Argento utilizza gli effetti al computer. Belli o non belli che possano mai essere, però già vediamo un cambio di Argento. Argento che vuole cambiare perché dice basta gli effetti fatti a mano, basta quel tipo di luci, basta quel tipo di ambientazioni e quindi cambia e fa quindi gli effetti speciali al computer, ambienti un po' più moderni, cambia le luci, cambia la fotografia. Però è una scelta sbagliata perché Argento non è quel mondo, non è il mondo dell'effetto speciale al computer, non è il mondo della modernità. Argento è il mondo dell'antico e secondo me deve affermarsi alla sindrome di Stendhal. Dopo non ha fatto solo delle schifezze, ha fatto anche dei film uno o due che sono carini, però insomma dopo la sindrome di Stendhal veramente si scende pian piano nel baratro. Perché? Perché Argento voleva modernizzarsi, lasciare perdere tutta la produzione che ha fatto prima però non ci riesce. Argento sa di essere vecchio, di usare tecniche vecchie. Come vi dicevo in Trauma, vi dicevo che è un film che sa di vecchio, e Argento si ne rende conto che è un film che sa di vecchio e doveva fermarsi lì. Perché Argento non è in grado di andare verso il moderno, Argento fa parte di quella realtà. È come se Dante, è come se Dante volesse scrivere i Promessi Sposi, ma non ce la farebbe mai, non ce l'avrebbe fatta, scusatemi, ho obbagliato il periodo ipotetico, mia culpa. Dante non ce l'avrebbe mai fatto a scrivere i Promessi Sposi. Perché? Perché è un'altra epoca, è un altro contesto. E Dante appartiene a un altro contesto. E Argento appartiene al contesto del giallo all'italiana, dell'orro visionario, dell'orro gotico. Non appartiene all'orro moderno. Non appartiene ai film con gli effetti speciali, non appartiene ai film con delle ambientazioni moderne, con una luce moderna e con delle tecniche anche di fotografia moderna. No, non ci appartiene. Ci ha provato, non ci appartiene. E difatti già con la sindrome di Stendhal, diciamo, la critica si divide da metà. Poi c'è il Fantasma dell'Opera del 1998, che fa schifo. E l'ottavo remake dell'originale, del musical, il Fantasma dell'Opera, poi rifatto dalla versione più moderna e più bella, è quella con la colonna sonora di Lloyd Webber. Bellissimo, bellissimo. Poi arriva quello di Argento. Credo che se non sia il settimo o l'ottavo, insomma, settimo, ottavo remake. Quindi vedete che già Argento non ha più idee. Già Argento qui non ha più idee, fa schifo, cosa vi devo dire. Ancora si è Argento, qui però non si è Argento che non sa recitare. Il film, non c'è niente da dire, è brutto. Argento ci ha provato a rimettere il film nel teatro, come aveva fatto con Opera, ma qui vuole sempre rendersi moderno. E non ci riesce. Il film è brutto, la trama è brutta. Cioè, la trama non è che sia brutta, ma non ha assolutamente quella potenza del film originale, anche perché dopo setta, otto remake, cioè, buona, come si dice in bolognese, basta. Non andava assolutamente fatto questo film, è un film che molti neanche considerano, un film nullo. Fate finta come se non ci fosse. Dopo fa, nel 2001, Nono Sonno. E su questo film invece ci stiamo. Nono Sonno, un film dal 2001, quindi entriamo nella modernità argentiana. Nono Sonno ritorna all'antico, però. Argento capisce che il moderno non fa per lui, e torna all'antico. Torna a usare alcuni degli attori presenti in profondo rosso, torna a usare quelle atmosfere tipiche di profondo rosso, torna a usare le luci che avevano caratterizzato inferno e suspire, torna a utilizzare la tecnica del ribaltamento. Gli riesce, gli riesce bene, perché Argento fa parte di quel mondo lì, solo che nel 2001, diciamo, è un Argento vecchio. E ripeto, è vecchio perché, non per la questione di effetti speciali, che non ce ne frega assolutamente niente, è vecchio perché ormai sta riciclando le idee, e gli manca l'idea. Cioè, il fatto che lui usi elementi come la visionarietà, il ribaltamento, eccetera, eccetera, elementi che l'hanno reso famoso, non vuol dire che il film sia di successo, perché se nel film non c'è l'idea, l'idea che sta alla base, non c'è neanche un film di successo, cioè non c'è neanche un film bello, e questi elementi sono vecchi in quanto riciclati. Ecco, secondo me questo è il concetto che Argento non ha capito. Non vecchio perché, dall'altra parte, dove non c'erano i film americani con i robottoni, The Ring, The Rung, The Rung, no, è vecchio perché ricicla. Ricicla il suo vecchio cinema senza metterci l'idea. E se non c'è l'idea, non c'è il film. Film carino, molto più bello del fantasma dell'opera, quindi sembra che Argento, insomma, sia rinato a rinascere la speranza. Argento è un film carino, sul livello di trauma, diciamo così un po' meno bello, ma sul livello della fine degli anni 90 argentiano, un film che si lascia guardare, molto carino, molto più bello degli horror attuali, questo ve lo posso assicurare, però è l'Argento che ricicla. Ricicla, l'Argento che non ha più idee è che ricicla gli elementi del passato da un lato, dall'altro c'è l'Argento che non ha più idee e che si vuole portare alla modernità e che non ci riesce, ma in entrambi i casi non ci riesce, perché non puoi riciclare gli elementi senza avere l'idea e non puoi ovviamente andare al moderno se tu fai parte di una realtà che ormai è superata e tu non sei più in grado. Non sei più in grado. Dopo il Non ho sonno, film carino, potete benissimo guardarlo perché è molto meglio degli horror attuali, però è nulla rispetto a Suspiria o altri film. E altra forse caratteristica è il fatto che questi artisti sono legati ai capolavori. Dopo che fai Profondo Rosso e Suspiria è ovvio che il resto viene giudicato a confronto con Profondo Rosso e Suspiria e quindi è più difficile fare film. A questo non lo metto in dubbio, però se da un lato mi vai a riciclare e poi mi vai a riciclare tutto senza avere l'idea di fondo non riesce. Nel 2004 Argento fa Il Cartaio e Il Cartaio è considerato il secondo film più brutto di dare a Argento. Il primo ve lo lascio alla fine. Il Cartaio, cioè Muccino. Muccino è un attore bravissimo. Ma cosa c'entra con l'horror? Già a Argento e l'horror fanno schifo. Peggio che vedere a Argento che bacia Morgan. Ma Silvio Muccino con l'horror non c'entra niente. Cioè a questo punto infilaci pure Moccia. Fai un film con Moccia. Silvio Muccino ci mettiamo alla sceneggiatura Moccia e poi ci infiliamo la Michelunziker Christian De Sicca ci infiliamo cazzo ne so Alberto Tomba ci infiliamo la produzione di Maurizio Costanza e facciamo a posto di Natale a Miami Natale facciamo Natale al cesso perché fa un film talmente schifo che insomma che maccio capatonda ci farebbe la parodia della parodia su un film del genere. Ecco Il Cartaio è questo. Il Cartaio è un film che è nulla che non c'entra nulla. è un film di un argento che vuole modernizzarsi quindi è di un film in cui l'argento non ricicla più perché dopo non lo sono l'argento non ricicla più gli elementi del passato deciderà di passare totalmente la via del moderno e non gli riesce. Almeno riciclando erano film che non avevano idee cioè mancava l'idea di base mancava l'essenza però c'erano quegli elementi diciamo tra virgolette riciclati che però rendevano gradevole il film in cui mancano quindi il film è proprio schifo ecco cioè magari maccio capatonda ci fosse stata la sceneggiatura magari veramente magari fa proprio schifo la trama è un killer che sfida la polizia a giocare a poker punto questo e il gioco del poker è peraltro truccato perché è un file pirata è truccato e quindi i poliziotti perdono sempre appunto che cazzo c'entra Muccino? che perché? ma perché Muccino? no ma no cioè non lo so non ti avete venuto in mente Muccino ma cosa cazzo c'entra? cioè ti ripeto Muccino è un bravissimo attore ma cosa cazzo c'entra con l'oro? ma cosa cazzo c'entra? maccio salvaci tu salvaci tu veramente andiamo avanti che meglio oh santo Dio nel 2007 nel 2007 Dario Argento fa questo film credo che questo sia uno dei film i boh vabbè non c'è neanche un aggettivo per definire questi film questo film nel 2007 è la terza madre la conclusione della trilogia delle tre mani dopo praticamente 27 anni dopo 27 anni Argento si è alzato alla tomba si è alzato alla tomba ha deciso che cazzo faccio ma Muccino l'ho usato Maccio Capatonda deve ancora venire per farmi fare una sceneggiatura più decente di quelli che faccio io ultimamente la miscelunzi che era impegnata con Eros la mazzotti che cazzo chiama ma a sergento e beh certo a sergento che si era appena anche lasciato con Morgan quindi poverina era in crisi era in crisi di astinenza dal sesso allora nella terza madre mettiamola così facciamo fare scene hot e la gente è contenta e questo film ha delle scene porno bellissime allora partiamo dalle streghe le prime due streghe la strega di Suspiri era una vecchia era una vecchia perché ovviamente era un fantasma del 1400 quindi vecchie decrepite che faceva anche paura nel secondo film la strega rappresenta la morte rappresenta la morte non posso svelarvi nulla perché sennò vi rovinirei al finale però rappresenta la morte un altro elemento che fa paura nella terza madre la strega è una porno star e no non è uno scherzo l'attrice che ha fatto la terza madre che perché non mettono i nomi degli attori sti deficienti non si sa va ve lo volevo dire così ve l'ho andata a cercare su YouPorn c'è scritto da qualche parte si chiama Sergento Cristiano ecco Moran Atias cercate su YouPorn Moran Atias è una delle più grandi porno star di Israele non è uno scherzo e qui fa fare la strega guarda come è decaduto prima era un fantasma poi è la morte infine è una porno star e che cosa vi devo dire non funziona non funziona assolutamente e qui Argento decide di tornare all'orro decide di completare la trilogia dei tre madri ma non si affida a Dario Nicolodi perché il grillo Nicolodi Dario Nicolodi avevano ormai rotto i rapporti più o meno per cui non si affida alla sua sceneggiatura ma si affida alla sceneggiatura di americani che non quadra perché gli americani col panorama horror italiano non c'entrano in qualche modo Dario Nicolodi però in questo film torna perché il film inizia la sua produzione nel 2005 nel 2007 nel 2006 i due si riconciliano e Dario Nicolodi torna a fare un piccolo cameo di un minuto circa nel film in quanto fa la mamma di Asergento che è morta un fantasma che era la mamma di Asergento quindi Dario Nicolodi era questo fantasma ed era una strega ed era una strega e quindi la figlia ha ereditato da lei i poteri ovviamente Asergento strega che bello credo che Maga Mago sarebbe stato un personaggio più credibile e più pauroso peraltro poi le streghe di questo film al di là della pornostar le altre streghe avete preso dei truzzi bene queste streghe sono peggio dei truzzi sono delle accozzaie di deficienti che girano per Roma per questo film ambientato peraltro a Roma girano per Roma a fare pernacchia la gente mamma mia che paura che vi devo dire il bello di questo film il bello di questo film scena lesbo porca di sera c'è una scena lesbo bellissima in cui c'è una delle amiche di Asi Argento che sta leccando insomma vabbè una scena lesbo non c'è bisogno di dirla sta insomma mi censuro mi censuro mi mi dico solo che è una bellissima scena ve la faccio ve la faccio godere insomma e poi peraltro ci sono i nudi di Asi Argento perché per quanto non sape recitare il suo corpo è bellissimo quindi c'è il nudo di Asi Argento mentre si fa la doccia c'è il nudo della strega che ovviamente sento porno star c'ha praticamente una quinta di reggiseno quindi culo perfetto quindi potete immaginare che roba che roba poi ci sono due gente che limona dappertutto quindi scena lesbo gente che limona nudi sesso cioè bello però Argento non è un registra porno forse non l'ha non l'ha capito forse nell'ultima parte della sua vita gli ormoni gli hanno ha fatto cilecca ha deciso di fare il registra porno star con i film horror non ha capito niente il brutto di questo film tutto il resto a parte le scene porno vi dico però una curiosità sulla terza madre che conclude in maniera deludente e indecorosa la trilogia delle tre madri che è una trilogia più bella a parte questa schifezza questa schifezza di film vi dico una curiosità alla fine Dario Argento ha inserito le scene cruente perché voleva fare il suo horror sia più pauroso della sua vita forse fa paura perché si vedono le streghe e le truzze che fanno le pernacchie alla gente io mi sono spaventato che cazzo sono sti idiote qui e poi scopri che sono le streghe lì mi sono spaventato però al di là di quello mette delle citazioni perché un film anche autobiografico metà letterario autobiografico insomma questa terza madre mette delle citazioni soprattutto nella parte finale quando c'è a Sergento che cade nella melma di cadaveri e praticamente è una citazione a fenomena ci sono citazioni ovviamente a Sospiri e Inferno che sono i predecessori però a parte queste cose il film fa veramente schifo però se volete farvi una bella sega volete masturbare sia donne che uomini perché qua c'è veramente la bellezza la bellezza del porno altro che altro che Sasha Gray guardate La terza madre di Dario Argento detto questo passiamo avanti passiamo avanti gli ultimi due film dai che stiamo concludendo il 2009 fa Giallo Giallo che è un film con Adrian Brody Adrian Brody è stato premiato per la sua partecipazione al pianista di Roman Polaschi è stato un attore ecco veramente eccezionale e a fianco di Adrian Brody Argento chiama Emanuel Signe non so come si pronunci speriamo così è la moglie di Polaschi quindi insomma moglie di Polaschi Adrian Brody che è recitato in un film di Polaschi un Argento che quindi si fida un po' del cast di Polaschi e fin qua uno dice cazzo allora Argento è tornato al giallo cast alle stelle produzione americana quindi in teoria dei soldi cazzarola Argento e soprattutto Argento che si interessa allo splatter e dice oh però oh però porca miseria cioè eh una cagata una cagata non ce la fa non ce la fa Adrian Brody che lui è bravissimo ma a Dario Argento è talmente suonato di cervello all'età ormai di quasi 70 anni no ce l'aveva già 70 anni si aveva quasi l'età di Berlusca però Berlusca per vari motivi li porta meglio a Dario Argento no e fa recitare male Adrian Brody come cazzo si fa a fare recitare male Adrian Brody ma come si fa ma come si fa personaggio piatto personaggio che qui Argento gioca sul duplice perché il personaggio di Adrian Brody che il poliziotto è incaricato praticamente di svolgere le indagini perché è un giallo qui molto più molto più classico in cui c'è un tassista pazzo un tassista pazzo e che praticamente uccide le modelle poi spiegheremo anche perché mi dispiace ma qui vi dovrò svelare anche un po' di finale perché è importante e uccide le modelle e quindi c'è Adrian Brody che sta indagando sul caso insieme alla protagonista che è Manuel Singer che è stata e che è la sorella di una modella praticamente catturata da questo criminale e Adrian Brody indaga con me metodi molto molto ambigui di un personaggio che sia luce che ombra e questo è bello è bello sembra un argento rinato in queste cose Castellare gioca sul tema del doppio e qui il tema del doppio è probabilmente un film in cui lo porta all'estremo l'agento il tema del doppio perché qui si vede praticamente quello che è si vede quello che è un poliziotto che sia luce che ombra sia bene che male e poi porta in luce argento un nuovo tema che è sempre il tema indagato in fenomena quello dell'alienazione quello dei pregiudizi quello del fatto che io chiamo mostro una persona brutta perché l'assassino è brutto a littero e di fatto alla pelle gialla e il film si chiama giallo non perché siamo ritorno e dare argento al giallo come tutti credevano ma perché l'assassino a littero grande bello quindi il tema c'è l'alienazione lui che uccide le modelle perché le modelle sono belle mentre lui è brutto quindi c'è il tema del doppio questo tema sempre dell'alienazione però sono giocati male i temi ci sono e sono anche interessanti soprattutto il tema del doppio di Adrian Brody però ho giocato completamente male anche il finale è totalmente piatto non c'è più quell'idea visionare del finale che scardinava tutto o il finale che boh che cazzo è successo o del finale insomma sul ribaltamento qui no qui gioco su questi temi però male gioca completamente male su questi temi perché ormai è invecchiato poi ha avuto dei problemi con la produzione perché gli americani gli avevano imposto il finale mentre Argento ne voleva fare un altro quindi non è colpa di solo di Argento che questo film faccia schifo nonostante abbia un castellare e dei temi importanti ma è anche colpa della produzione che ha praticamente tagliato il finale il finale di Argento però Argento non ce la fa quando capisci non ce la fai più perché perché Argento è un personaggio legato a un certo tipo di horror che adesso non va più nel bene e nel male non va più l'horror gotico è morto negli anni 80 questo è un dato di fatto a me dispiace perché è il mio horror preferito ma l'horror gotico è morto negli anni 80 Argento che è il capo insomma caposaldo dell'horror gotico dell'horror visionario dopo gli anni 80 mettiamo primi anni degli anni 90 doveva smettere e doveva dedicarsi alla produzione alla critica poteva lavorare nel cinema in altri ambiti invece ha deciso di fare il regista e non capiva più niente perché vi ripeto da un lato voleva tornare all'antico perché così i fan dicevano ritorno d'aria e Argento però riciclava le cose senza idee dall'altro voleva andare al moderno così i fan dicevano che bello si sta modernizzando che bello e invece vabbè cagate forse era meglio che veramente si dava la porno ed è brutto perché io in un'ora e venti vi ho parlato del maestro del brivido un regista che ha fatto dei film veramente meravigliosi e che sono tra i miei film horror preferiti Suspiria è il mio film horror preferito e poi arrivo a questi film adesso ne manca uno e poi ho finito si arriva a questi film che fanno schifo e ti vedi stai anche male perché dici porca miseria se ti fossi fermato prima ti sei rovinato la carriera e la reputazione perché hai fatto questi film e sono dei film proprio brutti e non perché ti mancassero i soldi perché ci sono dei registi che con pochi soldi fanno film bellissimi ricordiamo Lucio Fulcio citiamo il grande Ed Wood Planner Planet Nine From Outer Space e Argento non ce la fa perché non ha più idee cioè Ed Wood faceva dei film brutti perché non aveva soldi ma c'era l'idea e quindi il film è bello per l'idea qui non ci sono molti soldi quindi il film è brutto per i soldi ed il film è brutto perché non c'è l'idea 2014 2014 no 2012 in realtà barra 2013 perché dipende ovviamente dal paese che si prende in considerazione Dracula 3D io di questo vorrei andarmene non ce lo faccio a parlare di Dracula 3D vorrei chiamare Yotobi e venire qui e insultare e dare argento per mezz'ora credo che sarebbe il giudizio migliore per questo film mi perdono Yotobi ma ecco io lo chiamerei lo implorerei di venire qui e di farmi la recensione di Dracula 3D perché è veramente l'obrobe del film più brutto di Argento il cartaio è uno del secondo film più brutto Dracula 3D il primo film più brutto di Argento è l'ultimo film che andremo a fare in questa monografia in questa monografia Dracula 3D parla della storia Dracula quindi del romanzo di Bram Stoker che è un romanzo gotico quindi ancora una volta andare a Argento che vuole tornare al gotico e non ce la fa perché innanzitutto sostiene a mettere quella puttanella lì insomma chiamarla Meretrici come Meretrici così non mi censurano il video su YouTube Meretrici di Asi Argento che peraltro si era rimessa si era rimessa con Morgan quindi ecco spaliamo merda su merda arriva la Meretrici che fa una delle protagoniste di Dracula 3D già quello ecco poi Argento mette nel cast mette nel cast un attore che se io ve lo dico secondo me impallidite secondo me me impallidite mette nel cast praticamente niente po' di meno che to scusatemi che è Ruger Dauer non so come si pronuncia non so come si pronunci bene Ruger Ruger o Ruger 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 Auer chi è costui? costui è il protagonista di Blood Runner che si è prestato a questa pagliacciata non dici cazzo uno dei protagonisti di Blood Runner in un film di argento pum 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 ecco no finisce con Adrian Brody perché Dauer Argento dice proviamo a metterci un castellare magari migliore il film no perché non sa più dirigere l'attore può essere anche bravo ma se manca il maestro che ti sa dare le indicazioni e non va oltre lui sa recitare e anche questo film recita bene però non sa faccia ed è un film che io mi aspettavo un ritorno a suspiri in realtà io ci spero sempre in Argento e in questo film speravo in un ritorno a suspiri perché è un film che lasciava sperare lasciava sperare un ritorno al passato un ritorno a suspiri perché Dracula quindi sempre il tema dell'onirico dell'esoterico tema gotico visionario no c'è il porno ma questa volta è squallido perché non c'è più la porno star israeliana ma perché non l'hai richiamata forse forse almeno mi godevo qualche scena lesbo non c'è qualche scena porno bella il nudo c'è il nudo c'è però non è così interessante il protagonista di Dracula è inutile cioè c'è non so se voi vi ricordate il Dracula di Sir Francis Coppola ecco Coppola si sta ribaltando nella tomba anche se non è morto però si sta ribaltando lo stesso per questo obrobio che il regente ha fatto il Dracula di Coppola va a personale era Dracula Dracula lui faceva paura perché era Dracula questo qui fa ridere e allora nel regente dopo il porno è passato a fare i film comici e vabbè ma perché non se ne va colorato a Zelig si fa una bella gag con con i comici e forse saremmo più contenti tutti invece fa film brutti 3D 3D ovviamente inesistente ci ha speso di milioni questo 3D inesistente in Italia è stato un flop quindi non so adesso la gente vorrebbe partecipare a un progetto televisivo americano però non credo che a livello del cinema gli faranno fare più tanti film perché insomma dopo il flop di Dracula 3D cosa c'è di bello di questo film c'è una sola cosa bella la mantide religiosa e voi direte ma che cazzo c'entra in un film horror la mantide religiosa c'entra perché è la persona più bella è più ironico del film fa crepare delle risate ma in un film così lo puoi vedere solo in chiave trash non puoi vederlo serio lo devi vedere in chiave trash a un certo punto sapete che Dracula ha la capacità di trasformarsi in tanti in tanti animali tra cui il più famoso il pipistrello Dario Argento però dice ma che pipistrello pipistrello fa più paura cioè voi avete paura dei pipistrelli no avete paura delle mantide religiose lo fa trasformare Dracula in una mantide religiosa gigante perché la ingigantisce questa mantide religiosa trancia la testa uno con la sua con le zampe praticamente scena bellissima ve la consiglio credo che sia il più bel il più bel film comico che io abbia mai visto ecco se negli altri film ti pisciavi addosso dalla paura a cui ti pisci addosso dalle risate quindi c'è stato questo ribaltamento non solo il tema del ribaltamento dei film e proprio dei film argentiani ma il ribaltamento c'è proprio anche Argento l'ha fatto dall'horror al comico questo fa ridere questo film se voi lo prendete come commedia è bello perché fa scusa Dracula è una mantide religiosa e uccide le persone cioè altro che Godzilla io voglio io voglio la super mantide super mantide versus Godzilla super mantide verso King Kong credo che Argento qui abbia inventato vedete prima inventava la visionarità i canoni del nuovo horror ma qui ha inventato un nuovo eroe ragazzi cioè qui Argento si è superato qui Argento ha inventato la cazzo di mantide religiosa porca missa e l'ero ma quali X-Men quali di Avengers ma data quel paese voi e gli Avengers l'amantide religiosa porca mi non c'è Iron Man che tenga contro l'amantide religiosa grande Argento un applauso a questa nuova figura che è introdotta nel mondo nel cinema mondiale perché io credo che dopo Dracula 3D gli altri registi faranno quindi Tarantino farà l'amantide 2 l'amantide 3 l'amantide 3 remake prequel sequel e tutti perché è un personaggio che porca miseria sconfina nel bello cioè io quando mi dicono come definiresti in due parole il bello mantide religiosa boh concludiamo questa filmografia non vi ho citato altri film di Argento come sono Jennifer Peltz e ti piace Hitchcock che sono e poi la finestra sul cortile gli incubi Dario Argento che sono tutte produzioni televisive che non ho citato come non ho neanche citato le sceneggiature di Dario Argento che ha fatto con altri registi come per esempio Zombie 3 la produzione di Zombie 3 inizialmente inizialmente diretta da Lucio Fulci poi diretta da Claudio Fragasso forse solo Claudio Fragasso potrebbe superare l'argento dell'ultimo periodo di imbruttezza comunque non vi ho parlato di tutto Argento vi ho parlato dell'argento cinematografico vi ho parlato dell'argento thriller horror giallo argento che come vi dicevo non lo dobbiamo ricordare per queste ultime perle no non lo dobbiamo ricordare per quello che ha fatto in passato perché come vi dicevo Argento è un personaggio del passato e come tale va assolutamente ricordato e come tale è il maestro del brivito io ho un film più bello di profondo rosso e sospira io non sono ancora riuscito a trovarlo mi perdonerete tutti gli altri film che recensierò sono capolavori sono belli ma mai quanto questi questi due veramente questi due sono bellissimi non è niente da dire e non dobbiamo ricordarci Argento per quello che ha dato a loro per averci fatto capire cosa sia veramente loro non l'effetto speciale ma l'idea della paura l'idea di entrare nella dimensione della paura ed è quello che dare Argento ci ha fatto ci ha fatto capire e io credo di finire questa monografia non con Dracula 3D e le cazzate che ha fatto in questo film ma con queste riflessioni su quello che è stato Argento il padre dell'horror perché è veramente un padre un padre venerando è terribile citando la definizione che Platone dava di Parmenide dare Argento è il Parmenide dell'horror non consideriamo l'ultima produzione consideriamo fino alla sindrome di Stendale fino a lì veramente dare Argento è il Parmenide dell'horror Parmenide è stato il padre della filosofia occidentale ecco dare Argento è il Parmenide del cinema e io credo di finire con Dario Argento dicendo che è stato veramente colui che mi ha fatto capire cosa sia l'horror cosa sia la paura che non è farmi vedere un mostro che compare ma è mettermi di fronte a una realtà completamente decostruita completamente diversa soprattutto mettermi di fronte a una realtà che affronta dei temi molto particolari come l'alienazione il diverso il ruolo della donna eccetera sono temi importanti nella nostra società ed è questo che fa paura ed è questo perché nonostante Argento si sia occupato di temi visionari eccetera la visionarietà si trasforma in realtà ed è questa realtà che fa paura ed è questo che Argento ci ha fatto capire e noi questa è l'assenza l'essenza scusatemi l'essenza argentiana che dobbiamo tenere non l'ultima parte ma l'essenza in cui Argento creava nuovi mondi nuovi mondi che erano più reali di quanto noi potessimo mai immaginarci nonostante questi mondi siano visioni siano sogni incubi sono reali perché ci fanno paura e con queste affermazioni sulla paura io vi lascio ringrazio tutti coloro che riusciranno a seguire quasi due ore di monografia su Dario Argento il prossimo alla prossima recensione non sarà più di quindici minuti ve lo prometto anche perché è un solo film e sarà un film molto particolare si chiama ve lo anticipo tanto non credo che se no poi non dormite la notte che avrete gli incubi della mantide e del fatto che non vi ho detto il titolo il titolo del prossimo recensirò il profumo di una donna in nero film italiano che riprende alcuni temi di profondo rosso ed è il film più bello che ho visto nel 2014 per ora è un film degli anni 70 ma posso assicurare che è uno dei migliori film del 2014 al di là di questo io vi ringrazio se riuscite ad arrivare fino a qui perché è veramente veramente un lungo percorso ma abbiamo fatto veramente un lungo percorso all'interno di un gigante di un gigante dell'horror e spero che insomma possiate condividere le mie idee se non le condividete scrivetemi perché io sono aperto al dibattito anzi questa esperienza l'ho fatta proprio per dibattere proprio con voi e conoscere nuovi film nuove realtà questa era la monografia presa ad ispirazione vi consiglio anche un canale e dalle recensioni di Frusciante se voi scrivete su youtube o su google recensioni di Frusciante credo che il nome sia Federico sul canale dei Ilicaoni Production voi trovate una monografia di Dario Argento nonché tante altre monografie tra cui quella di Tim Burton che secondo me è una monografia perfetta io vi lascio con questo consiglio e ricordatevi che la paura è sempre dietro di voi grazie